31 dicembre 1999 Lo spazio. Lì per lì sembra che non finisca mai. Invece finisce all'improvviso addosso a un gorilla scaricabarili. Ecco, visto come si gioca? Ho visto come si perde, schiappa! Ehi, Friam, pizza a portar via! E portala via! Niente mancia al fattorino. Michelle, amore mio, dove stai andando? Tra noi non funziona, Friam. Ho sistemato la tua roba sul marciapiede! Schifo di vita, schifo di vita, schifo di vita! Felice, anno nuovo!